Allora, si è sentito? Niente. Che sai? Niente, tutti i contatti sono in terrore. Provo che in caso. Manchi, insomma, rispondi. Prova più giù. Sono lui. Niente. A Gedabia. A Gedabia, comanda Gedabia, mi sentite? Rispondete. Cosa è? Vai, rispondi. No, ma che ce frega? Ma che ne sapevo poi se erano al dito che chiamo a fare? La monica è una cosa, ci rispondi. A Gedabia, comanda Gedabia, non mi sentite? Rispondete. Qui è Sormar, stazione Sorma. Pronto, chi è? A Gedabia, quinta il Tunesima Sanità, quali sono gli ordini? Ma che ordini? Non c'è tanto. Come non ci sono? Chi comanda lì? Nessuno. Ma che fate voi? Dove andate? Colonnello, dove c'è? C'è un maggiore che vuole sapere dove andiamo. Non lo so, non lo so, noi altri ci spostiamo, guardo di movimento. E loro? Tenete duro, tenete duro. Tenete duro, tenete duro. Oh, invernate. Mi va, venite.